YOLANDA SWITZ Sì, lo sapete, chi è che non ha Harry Potter, non so che molti non piace, però a noi piace E quindi, in tanti, l'altra volta quando io e mamma si abbiamo fatto gli assaggi americani unicornosi, eccetera Sono uscite queste Caramelle Che sono le caramelle di Harry Potter tutti gusti più uno Tutte queste caramelle E stiamo nel nostro canzone a provarci Dobbiamo dire che il packaging è bellissimo Sì, è molto carino di Harry Potter Molto molto carino, proprio è Harry Potter È ripottiano Allora, l'odore non presume cose buone Sai YOLANDA Vado Adesso andiamo a fare un tocco Ambraciccicocco Dobbiamo andare a pescare una caramella E dobbiamo indovinare Che gusto sia Ma c'è una cosa, cominci tu Perché dovevo cominciare io? Ambraciccicocco Perché dovevo cominciare io? Perché dovevo cominciare io? Ambracicciccocco Undici Undici Vai, dai Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Tua, mare E' un po' difficile da vedere in realtà Forza, forza Giù, 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 giù E vai Mi sento un sapore della marena La marena O è il cerume O è il cerume O uovo maccio O uovo maccio Cioè deve essere Era schifoso Però non è che è un sapore proprio Non è tipo uovo È un sapore Vai YOLANDA Gira, gira Fai vedere com'è Vai, vai Allora tu devi adesso controllare la caramella Qual è Favvela vedere Questa è la caramella Vai, vai, vai Ho capito già che è fattivo perché L'odore non è Non prometto No Il posto ti va di fortuna Ti gusto, eh Amareno Ah, è stata fortunata Che fortuna Anda, fortuna Andate No, amareno, ci dico Bravo Buono E quindi Secondo te cos'era? Era muco Vai YOLANDA Vai Questa Fai vedere Fazzaletto Fazzaletto alla mano Vai, vai Mastica, mastica Forza, forza Mastica Ma che è che Sei sempre fortunata Questa è salsiccia Salsiccia Fa così È bene Lo sai salsiccia Salsiccia Buona È buona Ma è buona Ma è buona però Orrende Sono orrende Ecco il colore Ma lo sa mugo No Ragazzi È bruttissimo però Non è brutto È buona Vuoi sapere cos'era? È la sporco No perché inizialmente Era fattibile C'è anche c'è rum Ragazzi Ma si viva vai Ragazzi non vedo niente Si sente solo lo zucchero E l'interno deve essere grasso Fammi sentire È grasso Non l'ho saputo perché Arriva dopo Psicologicamente Psicologicamente E il sapore Non è disgustoso Come le altre Ma che a me Oh caio Olandina Questa qua No no che è schifo Cos'è? Salsiccia Allora fa schifissimo Allora è sporcizia Si sente il dolce In tutte le caramelle più o meno È il dopo che ti frega È il dopo che ti frega Va infatti Cioè che si espande questa Proprio Non è male Allora la challenge consiste nel fatto Che se tu appi la caramella cattiva E riesci a mangiartela Allora vinci No ma sono bruttissime Io non ce la faccio Vazzo 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 Non mi sembra che sto vincendo Ma mica ne facciamo tutti Guardate il colore Ma è buona È buona Ciliegia Bravo Vale Qua Ecco No No Daniele è già rito No 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 rito Sempre marzo No 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 Senti il piacchiato Ci si senti Si senti Si sente Si sente Per sapere cos'era Sapone Sapone Tutto a me stanno capitando Frutto brutto 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 Così mangio pure quella Iole Che gusto è Se la mangiare E che gusto è Marshmello Yes E Yolanda c'ha un po' di questo qua Questa Io non ce l'ho Brutta No Non mi senti io No Non mi senti io Ah è la Sinamo Uno Brava Guarda mamma si pieghi gli occhi Già tocca a me Sì Già tocca a me È troppo veloce Troppo veloce Troppo veloce Posso 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 Anni Non ci facciamo Ambrass Ambrass Ragazzi Vedetevi Di nuovo sapone 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 Bama Ragazzi è un sapore Assapora Come E non mi smutare il fatto Ma mi rompere 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 Ma te mangi pure le mie No perché quella vuole vincere Vuole vincere Esatto Ma non fumo E non fumo Ma che sapone mangerebbe Ragazzi non ve lo giuro Che non fa così schifo Vabbè 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 Aspetta No Non esiste Vabbè Ha gli occhi Grasso Bravo Sare di tipo olio C'era Veramente C'era di Non c'era di Mamma Silvia Forza Che stiamo andando Sulla finale Di 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 Dovrebbe essere buona Questa Sì Questa è più buona Eh Tendo un sapore di frutta Eh Sì È più buona Ciliegia All'arena No È possibile Wow Si sente proprio chiaro Chiaro Alla banana No La banana Non lo so Però non l'ha in gole Non ce la fa È il limone È il limone È il limone Eh Già l'ho preso Ah già l'ho preso Ok Vabbè che si sente Controlla Vai Ma Uh 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 Difficoltà a mangiare Di 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 Eh È marshmallow Eh Ma c'è una fortunella Questa Yolanda È incredibile Vado Ragazzi Wait one second Apri Io Daniele Ehm 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 Mangiabile Ma l'ho sputato Sala Terra sport No Terra bagnata Terra bagnata Qua ci sto a cambiare Uh Uh E fa Vavere Noo Noo Mi è capitata la peggiore Che c'è per te Da Gah 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 Vomito Vomito Non ce la faccio Acqua Questa volta No 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 Una e due Una sputata Ragazzi Si senti Vabbè dei vomito Che stiii Vomito Eh ma scusa Eh è questa Mancio Mancio che buono Mancio Sti gusti Sti sapori Orrendi Che c'hai Alla Che c'è È livoo È livoo Senti a fareva il caso Che c***o Che paura Ah Oh Ah 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 La 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 You 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 Ah La La You You Ah 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 Daniele Daniele Urgolo Lui I fazzoletti Ah Mi sta Ah Sto Un po' Di govido No Mi sta facendo male Ma chi ne aveva fatto Le fa la pastacelle Ragazzi aiuto Ah Secondi Pezzo di me Che cos'è Che cos'è Ma se ti affamore Non lo so Ma è disgustoso Vuoi sapere C'è vomito Sparco Vuoi sapere cos'è Cerume 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 Danny Oh Mai una volta che ti ha Sto soffrendo Vai vai mangia mangia Oh E' caramella Com'è Yala Ok 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 Ecco E' sempre ok Allora All'è tutto ok Questa E' quello che ho beccato prima Che dovrebbe fare schifo Ma in realtà mi piace Ti piace il cerume Complimenti Allora a te piace il cerume Complimenti Ah Si stoppiamo Vai Posso Si No Vedete cos'è Di buona No E' la stessa che ho preso io Cerume Bravo E' non mangiabile Ok E' ma te l'ho detto che è immangiabile Cerume Vatti me la mangio Ragazzi Vai Vai Quindi Questa è un poco meglio di quelle là Meno male E' la cerume No però Ragazzi Non ce la faccio Di Questa No No I 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 Ragazzi Fa veramente impressione E' pepe nero Esatto Pepe nero Se la sta mangiando E se la mangerà Mangiata Mangiata Vissima E' pepe No Come ho detto Il bussen Non c'è il bordo di te Di pomodio Giovanna No È bovido Già lo so Mamma mia Mi pezzica la lingua Ah cerume Cerume Ma cerume la cisma Ah E' un palazzo Chiara Pazzo mamma Sempre E' questa E' un po' comara No ragazzi Non si fanno tutte schifo No Cinnamon Ah cinnamon Mischiamo Bene Ma quante bene sono rimaste Questa Wow Non ci siete delle sfigate Già sono a testa Questa Incredibile Ma sei una fortunata Pazzisca Gioca di numeri all'otto Canduria 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 E' rimasto D'orito il vomito Da qua dentro Guarda No Non paura Non brucia 50 e 50% di possibilità Ma mi hanno sfigato Forza Forza Vado Vai Dei abbendata Aiutemi tu No Vai 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 Sei serio Sei serio Ma sei serio Seriamente E' brutta E' brutta E' strana Perché non c'è qua sopra No Sai di Di schifo Ma vuoi Mi hai chiuso agli occhi Me la devo per forza mangiare Giù 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 Ma ma lo stai facendo Ma lo stai facendo Ma lo stai facendo Io c'ho andata a quella Mamma Silvia proprio Proprio male Allora mamma Silvia è quella che ha beccato praticamente quasi tutte le cose disgustose Io ho vinto Daniele II ma quasi in via terza Lasciate un bel po' lecce in su Arriviamo Arriviamo a 8000 like 8000 like E magari facciamo qualche altra challenge Suggeritecela a voi Grazie a tutti per aver visto questo video Vi ricordo che ogni giorno alle 14.30 ce ne sarà uno In descrizione trovate Facebook, Instagram Il link del libro e lo shop delle magliette Vi mandiamo un bacio e un abbraccio E noi come sempre ci vediamo Domani Alle ore 14.30 Con un nuovissimo Video Bye bye